La trasmissione del sabato sera di canale 5, Italia's Got Talent, continua a raccogliere consensi, settimana dopo settimana, puntata dopo puntata, guadagnandosi, sin dall'inizio della nuova edizione, il titolo di programma è più visto nella prima serata del sabato. Questa sera ci imbatteremo in ventriloqui, sempre ben rappresentati e già incontrati nelle precedenti puntate. Maghi, cabarettisti, apparentemente improbabili band dall'aria goliardica, lottatori di wrestling e pattinatori dalla rotella acrobatica. Annunciata una prova in esterna a base di slack cleaning con Alessio Gosso e Deva Debra, mentre si attende sul palco Michele Tomatis, che ha tanto l'aria dello spogliarellista, e santino franzese, ma non da solo. Ma sempre numerosa è la rappresentanza di cantanti e musicisti. Tra gli altri stasera conosceremo Lee Erlong, il giovane Daniele Brogna e gli sconcertati con i cantanti. Manuel Amati, Sara Intagliata, Ilaria Pasanisi, Sara Zappino, Mattia Tamburo, Cristiano Cosa, Pasquale Greco e il pianista Alessandro Stefanelli che stando alle foto postate sul profilo sono riusciti a superare il turno con soddisfazione. Non mancheranno esibizioni al limite della follia, della decenza, dell'imbarazzo, della maestria. Appuntamento alle 21.10 per il live della quarta puntata di Italia's Got Talent 2013.